La porta santa del Giubileo della Misericordia è la porta dell'incontro tra il dolore dell'umanità e la compassione di Dio. È la porta del suo cuore misericordioso che guarisce il nostro cuore per arrivare alle nostre mani e farci compiere opere di misericordia. Lo ha detto Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza Generale tenuta questa mattina in Aula Polo VI, presenti circa 9.000 fedeli, dal titolo La Consolazione per una Mamma. Il Pontefice ha commentato il brano del Vangelo di Luca sul miracolo di Gesù della ressurrezione del figlio della vedova di Naim. Un gesto di tenerezza per la grande compassione di Gesù verso la donna che, verso il marito, piange la morte dell'unico figlio. Quando la vide in lacrime, la madre entrò nel cuore di Cristo, come noi, quando attraversiamo la porta santa, portando gioie e sofferenze, progetti e fallimenti della nostra vita. E Gesù ci dice non piangere. Barcando la soglia, noi compiamo il nostro pellegrinaggio entro la misericordia di Dio che, come al ragazzo morto, ripete a tutti, dico a te, alzati, a ognuno di noi, alzati. Dio ci vuole in piedi. Ci ha creati per essere in piedi. Per questo la compassione di Gesù porta a quel gesto della guarigione, a guarirsi. E la parola chiave è alzati, mettiti in piedi, come ti ha creato Dio in piedi. Ma Padre, noi cadiamo tante volte, avanti, alzati. Questa è la parola di Gesù sempre. Nel varcare la porta santa cerchiamo di sentire nel nostro cuore questa parola, alzati. La parola potente di Gesù può farci rialzare e operare anche in noi il passaggio dalla morte alla vita. Con il cuore guarito da Gesù, ha concluso Papa Francesco, posso compiere le opere di misericordia mediante le mani, cercando di aiutare e di curare tanti che hanno bisogno. La misericordia è un cammino che parte dal cuore e arriva alle mani. È la Chiesa in uscita. Ed ha lodato l'iniziativa di un Vescovo che nella sua cattedrale ha fatto porte della misericordia di entrata e di uscita. In entrata per chiedere perdono e avere la misericordia di Gesù, e in uscita per portare la misericordia agli altri con le opere.